Buongiorno a tutti e benvenuti al TGD ragazzi. Iniziamo subito con una notizia interessante. Buongiorno a tutti e benvenuti al TGD. La direzione generale nord-ovest ha annunciato lo sblocco della situazione garantendo 2.000 esami mensili, un incremento di quasi il 30%. In gennaio ne sono in programma 1.400, una boccata d'ossigeno per la struttura che attualmente ha 6.800 esami arretrati e 6.000 quiz da smaltire. È stata inoltre garantita l'apertura degli uffici 5 giorni su 5 fino a giugno. Resta il deficit di organico anche se è arrivato già un ingegnere e altri due arriveranno a febbraio. Segnali positivi rispetto ad una situazione insostenibile che andava avanti da due anni e che tra l'altro è unica in Italia. Nelle province limitrofe infatti gli esami vengono effettuati nel giro di un mese o poco più. Per sbloccare la situazione la direzione generale si è attivata programmando lo spostamento temporaneo degli ispettori per gli esami nelle zone di confine della multidizzazione di provenienza. Su Bergamo quindi graviteranno soprattutto le scuole guida e gli esami di residenti del capoluogo e dell'Interland. Questo in attesa dell'arrivo del personale abilitato promesso dal Ministero dei Trasporti. All'aeroporto di Oriol Serio passano circa 160 persone con difficoltà motorie, 60.000 in un anno. Per loro sono attivi i servizi di assistenza speciali che gli permettono di superare i controlli e salire sull'aereo in tutta sicurezza. Sentiamo cosa ci dice a proposito il Presidente Giovanni Sanga. ACBO investirà nei prossimi anni significativi interventi negli ascensori che condurranno direttamente ai gate e che favoriranno l'accesso di queste persone e quindi di situazioni che possono capitare a tutti anche nei servizi aeroportuali. Sui servizi e sul rispetto delle normative comunitarie in favore dei passeggeri con difficoltà vigila l'ENAC internazionale per l'aviazione civile. Andiamo a fare un sopralluogo per esempio sui parcheggi per verificare la congruità e il numero degli stalli dedicati alle persone a ridotta mobilità. Verifichiamo tutto l'equipaggiamento quindi in termini di facilities a disposizione dei soggetti come ad esempio lo stato delle sedie a rotelle piuttosto che gli ambulift e così via. E anche tutta l'attività che riguarda l'assistenza materiale. In più nel 2016 è stato l'aeroporto di Bergamo aderito ad un progetto lanciato da ENAC e volto a garantire assistenza e a consentire l'esperienza del viaggio aereo ad una particolare tipologia di passeggeri affetti da disabilità che sono in particolare i passeggeri affetti dello spettro autistico al fine di consentire anche a questi passeggeri di intraprendere l'esperienza del viaggio aereo. Curiosi immagini ci arrivano dalla Parigi-Dakar. L'equipaggio bergamasco della squadra Italtrans che sta partecipando alla gara si è fermato per aiutare il team giapponese che si è fermato nel deserto. Con un cavo i bergamaschi sono riusciti a rimettere in piedi il camion dai rivali che si era rivoltato tra le dune. Vediamo le immagini del salvataggio. Dopo la tragedia dell'incidente costato la vita tra le dune al quarantenne motociclista portoghese Paolo Gonsalves stavolta le immagini della Dakar che ci arrivano dall'Arabia Saudita ci regalano attimi di speranza e di solidarietà che vedono protagonista un equipaggio bergamasco che ha soccorso un altro equipaggio in difficoltà. Il team dell'Italtrans si è infatti fermato per aiutare a raddrizzare un mezzo di un team concorrente giapponese fermo dopo 287 dei 741 chilometri della tappa speciale tutti nel deserto. A bordo Claudio Bellina di Trescore Balneario, Giulio Minelli di Costa Volpino e Bruno Gotti di Valbrembo che ha girato questo video. Hanno usato un cavo per permettere al camion giapponese di rimettersi in marcia dopo che si era ribaltato. La squadra bergamasca ha poi terminato la tappa 25esima ed è ora 21esima nella classifica generale ma quello che conta di più è il gesto che hanno compiuto che rappresenta il vero significato della parola sport e che vale più di tante vittorie. Sono appartiti a Bergamo i lavori per la Fontana del Delfino. Il restauro è arrivato grazie a un concorso nazionale promosso dalla multinazionale Sanex e sarà gratuito. I lavori dureranno un paio di mesi e alla fine la fontana tornerà come nuova. Eccola la Fontana del Delfino coperta dalle impalcature per il restauro. In questi giorni sono iniziati i lavori che dureranno un paio di mesi per il recupero della statua ottenuto gratuitamente grazie alla campagna Libera l'Arte promossa dalla multinazionale Sanex. Grazie al voto sul sito dell'iniziativa che ha visto concorrere otto opere d'arte italiane la Fontana del Delfino ha ottenuto il finanziamento. Una vittoria al photo finish con oltre 400.000 preferenze. I lavori sono stati affidati ad una società di Venezia che riguarderanno prima la pulizia della pietra e poi l'integrazione delle parti mancanti, la sistemazione dei giunti e la revisione del sistema idraulico. Alla fine la Fontana tornerà come nuova, riqualificando così un angolo nascosto di Bergamo, quello di Via Pignolo, che inizia ad essere frequentato anche grazie alla presenza della sede dell'università nell'ex Collegio Baroni. L'ex Convento delle Clarisse a Bocca Leone tra poco sarà demolito. Dopo gli interventi di bonifica e pulizia del mese scorso ora iniziano i lavori per la demolizione del vecchio edificio abbandonato. In futuro al suo posto potrebbe sorgere un nuovo pallo sanitario destinati ai disturbi alimentari. Il piano di recupero di quest'area abbandonata accanto al Viadotto di Bocca Leone a Bergamo muove i primi passi dopo un intervento di pulizia e di bonifica dei mesi scorsi ora si parte con i lavori veri e propri. I 4.000 m2 dell'area dell'ex Convento delle Clarisse di Bocca Leone saranno demoliti i lavori partiranno alla fine del mese e si concluderanno entro il 10 aprile. L'area di proprietà della Fondazione Istituti Educativi che l'ha acquistata per 377.000 euro sarà destinata ad interventi di carattere sociale o socio-sanitario. Inizialmente si era pensato ad un recupero degli edifici che è stato scartato per problemi di stabilità e di costi. A conclusione del cantiere sarà deciso come utilizzare questi spazi che sono attigui al maxiprogetto di Porta Sud. Se andasse in porto l'idea della creazione di una cittadella della salute qui potrebbe sorgere un polo socio-sanitario dedicato ai temi dei disturbi alimentari. Il 2019 è stato un anno da record per il Conservatorio di Bergamo intitolato a Gaetano Donizzetti. Un concerto ogni tre giorni e molti studenti che arrivano anche dall'Estremo Oriente. Nel 2021 si concluderà la statalizzazione dell'Istituto e la fusione con la Scuola di Belle Arti dell'Accademia Carrara. Sentiamo Pietro Giovanni Gianchini, direttore del Conservatorio. La novità è che insieme a noi ci sarà anche l'Accademia Carrara quindi dal prossimo anno saremo un ente unico. È un'operazione importante innanzitutto per la sopravvivenza dei due enti ma anche perché io sono un ottimista, secondo me questa operazione ci darà comunque modo di allargare gli orizzonti sia della didattica sia anche della visibilità dei due enti. Un concerto ogni tre giorni è stato un anno da record del 2019 per l'Istituto Superiore di Studi Musicali che offre agli studenti un'alta preparazione. Perché tra gli strumenti c'è anche la voce, quindi anche l'opera lirica. La voce, anzi, è un dipartimento che sta sempre più diventando importante perché abbiamo molte richieste che vengono dall'Oriente. Unedì 20 gennaio nel teatro annesso all'Istituto Palazzolo considererà all'evento il concerto inaugurale dell'anno accademico. Concerto che sarà dedicato al maestro Marco Giovannetti scomparso prematuramente la scorsa primavera. Il sogno è di poter innanzitutto consolidare l'Istituto dal punto di vista finanziario in modo da avere un po' più di serenità durante l'anno e di poter avere delle certezze più concrete. Ma sicuramente è anche quello di far diventare questo istituto farlo diventare un po' più internazionale. A San Pellegrino Terme è stata inaugurata la palestra sul fiume uno spazio all'interno della clinica Quarenghi dedicato alla riabilitazione dei pazienti in particolare dopo traumi sportivi. Oltre ad essere inseriti in un ambiente particolarmente bello e verde la palestra sarà un punto di riferimento per la valle a disposizione anche per gli esterni. La palestra sul fiume dell'Istituto Quarenghi di San Pellegrino Terme è stata inaugurata oggi alla presenza delle autorità che dopo il taglio del nastro hanno visitato la nuova struttura. L'importante progetto di ampliamento e innovazione sarà dedicato alla riabilitazione dei pazienti ambulatoriali, neurologici e ortopedici, in particolare nel post-trauma sportivo. Il nuovo polo, un recente intervento di riqualificazione di un ex padiglione polifunzionale, con annessi alcuni locali da poco acquisiti e collocati nel giardino che si affaccia sul fiume Brenghi. La ristrutturazione di un ex padiglione polifunzionale abbiamo colto l'opportunità di diversificare l'utilizzo delle nostre palestre. Quelle poste nell'ala storica della nostra struttura dedicate esclusivamente ai pazienti degenti, mentre la nuova palestra sul fiume sarà utilizzata principalmente da un'utenza esterna. Il giardino riabitativo è rivolto sia ai pazienti degenti, sia ai pazienti ambulatoriali che, in quanto è percorso, i pazienti stessi potranno esercitarsi sui lievi pendii che lo caratterizzano in questo ambiente magnifico, immersi nel verde. L'opportunità di avere un nuovo polo ambulatoriale riabilitativo sarà quello di potenziare certamente la nostra offerta riabilitativa specializzandoci sempre più fino ad arrivare alla traumatologia dello sport. Oltre 200 tesserati e tante discipline sportive sono i numeri dell'associazione Omero Bergamo che da anni segue i ragazzi adulti povedenti nella pratica dello sport. Torball, goalball, atletica leggera, nuoto e sci, le discipline sportive sono diverse. A queste si affiancano anche eventi e attività culturali che aiutano l'inserimento sociale. All'associazione servono sempre volontari fondamentali per proseguire nell'attività. 200 tesserati, tanti collaboratori al fianco di giovani e meno giovani che abbattono le barriere della disabilità attraverso lo sport. L'Omero Bergamo è il punto di riferimento a livello sportivo dei ragazzi non vedenti e di povedenti. Nella palestra del Lussana, nel weekend, si sta svolgendo una delle fasi del campionato italiano di Torball. Facciamo diverse attività sportive, Torball, goalball, atletica leggera, nuoto, sci, tandem, diverse discipline. Chi vuole avvicinarsi a noi trova veramente spazio per poter fare dello sport. Ma non solo, dicevo, quindi facciamo anche delle attività culturali, portiamo i ragazzi comunque fuori anche per l'inserimento sociale, anche ad imparare a muoversi, autonomia, cascina didattica per esempio, o tante cose come per l'equilibrio, i roller, i pattini. Servono tantissimi aiutanti, tantissimi volontari che ci diano una mano perché noi senza i volontari purtroppo siamo fermi, non riusciamo a fare poche cose. Organizziamo tantissimi eventi, come anche le cene al buio, non so se ormai sono diventate conosciute in tutta Bergamo e provincia, dove queste attività ci servono per raccogliere quei pochi fondi che ci servono per andare avanti. In questa disciplina sono due ragazzi che con merito hanno conquistato la nazionale maggiore Under 23 di uno sport paralimpico. Tre collaboratori dell'associazione, in prima linea troviamo il barzellettiere bergamasco, Giuseppe Morotti, in arte on Morot. Pian piano dal calcetto mi sono allargato ad altri sport, ad altre discipline, comunque altre attività di Omero e ho trovato nel golball e nel torball diciamo degli sport che mi piace praticare in cui sono abbastanza portato e quindi sono arrivato fino alla nazionale. Sono entrato a far parte di Omero con il nuoto quando avevo otto anni, in seguito ho iniziato a praticare torball e poi golball col quale sono entrato in nazionale. Il mio sogno sarebbe arrivare alle Paralimpiadi magari nel 2024. Dalla classe seconda della scuola media Maria Regina di Bergamo è tutto. Vi ringraziamo e restituiamo la linea allo studio. Ciao, sono Federico e oggi ho fatto il ciocchista. Ciao, mi chiamo Riccardo e oggi ho fatto il cameraman. Se vi è piaciuto il video mettete l'anichè! Ciao, mi chiamo Riccardo!